Al dibattito della CGL sul tema diritti e democrazia ha partecipato anche il Presidente della provincia Domenico Zinzi. Presidente, lei in occasione della presenza di Petrella ha spinto molto per chiedere alla Regione di fare di più, soprattutto per le tante vertenze che ci sono a Caserta. Il problema che più ci affligge è quello di mancanza del lavoro. Dobbiamo riprendere su certi temi con la Regione Campania e col Governo a risvegliare certe aspettative. L'accordo X3M credo che sia un'occasione per rilanciare altre attività. Tra l'altro teniamo molte aziende pronte a investire e a intervenire. I problemi che oggi teniamo vanno solo affrontati attraverso un insediamento di nuove attività. E quindi credo che oggi la preoccupazione che più prende chi vive nelle istituzioni è quella di superare questo momento difficile. Lei ha chiesto anche con molta insistenza a Petrella di proseguire sul cammino dell'Interporto che è uno snodo fondamentale per lo sviluppo in terra di lavoro. Io ho posto il problema dell'Interporto come il più grande progetto che abbiamo in questa provincia e non solo per creare occupazione e sviluppo. All'Interporto si connette lo sviluppo del porto di Napoli. Ma credo che io abbia dato anche qualche altra, diciamo, stimolare qualche altra attenzione sulla intermodalità in genere. Perché questa è una provincia dove bisogna sviluppare l'intermodalità e una provincia dove l'intermodalità è di casa. Per cui l'attenzione che noi dobbiamo porre anche con l'intervento del Governo centrale. Ci fa piacere che il Ministro Passera ha inserito l'aeroporto di Grazianise in una programmazione nazionale. Vorremmo che questo si verificasse quanto prima, la realizzazione mi riferisco. E in ogni caso, prima ancora, il trasporto passeggeri si provvedesse anche e soprattutto in via prioritaria al trasporto merci. Questa sarebbe un'altra occasione per poter dare a questa provincia delle risposte immediate.